Come era la vita a casa durante la guerra? Cosa mangiavate? Come facevate? Nel periodo della guerra qui a San Vito c'era l'ufficina di riparazione degli automezzi che venivano dal fronte e quindi stavano per San Vito. C'era pure il comando e venivano lì all'albergo dove stavamo noi e io mi sono fatta grande lì e c'erano anche quelli che erano fissi che venivano in cucina che raccontavano delle storie loro in Germania della famiglia e quindi sapevamo, li conoscevamo benissimo quelli che erano a distanza qua a San Vito. Poi successe un fatto bruttissimo che uno di questi che frequentava il bar nostro e l'albergo andando a casa fu ucciso da uno che diceva che era un partigiano scendendo dal monte di San Vito e fu ucciso e prima di morire disse il civil civil e indicò che era stato un civile insomma e quindi ci fu un rastrellamento presero dieci persone di San Vito e li portarono a Tivoli per essere fucilati. Poi invece furono fortunati perché fu bombardato e questi potevano fuggire. La prigione che tostavano a Tivoli. Sì, sì. Vabbè invece a casa proprio tua. A casa mia. Pure se appunto eravate... C'è un gatto. Ci penso io. Questa piccola interruzione vai. Dicevi a casa tua tipo come era la vita. C'eravamo il ristorante, l'albergo e mio padre andava di notte a prendere la farina su a Capranica, andava a Pistoniano a prendere i fagioli, il Gran Turco, insomma tutte queste cose quindi a noi non ci è mancato niente. Ce l'avevamo noi da mangiare e da bere naturalmente. Raccontava quell'episodio che hai detto a tua nonna che la luce accesa avevano sparato come erano i tedeschi. Beh, in corrispondenza della cappa che avevamo sopra per cucinare per l'albergo c'era un finestrone che dava sulla strada di sotto dove una volta c'era c'era il mattatoio, no? Passando... Diciamo la strada di sotto la tombola adesso? Sì, sotto il gioco del bocce, sotto il gioco del bocce. E passando di ronda per vedere se c'era la luce negli altri posti, videro questa luce che rifletteva attraverso la cappa e spararono un colpo per indicare che dovevamo tenere tutto spento. Che c'era il coprifuoco. Che c'era il coprifuoco. Non potevano far vedere agli aerei che c'erano dei paesi o città insomma era proprio in uso. e quindi insomma mia nonna se la cavò proprio per niente. Fu attraversata da questa pallottola così da dietro di lei e andò a finire alla cappa della stufa. Poi c'era un altro episodio che appunto stando i tedeschi a San Vito passarono dei tedeschi che venivano dal fronte di Cassino e questi vennero per dormire e gli dissero a mio padre Dice dormire, dormire? Dice no, io non ce l'ho da dormire perché c'era altra gente Dice però adesso se voi volete io vi indico dove stanno la caserma dei Carabinieri e la vi ospiteranno. E così fu. Quando invece di fermarsi dalla caserma dei Carabinieri Dove stava prima? Dove stava prima, sì. Dopo Piazza Roma? Sì, dove sta... beh adesso c'è la Fontana Nuova. Ok, ok, ok. Invece di fermarsi, accelerarono la marcia e lo portarono per la strada di Genazzano E a un certo momento mio padre si raccomandava Dice io ho la famiglia, ho i bambini Perché non mi lasciate? Perché non mi lasciate? Si commossero insomma questa cosa e fermarono la macchina E mio padre diceva ecco adesso mi sparano, adesso mi sparano Invece grazie a Dio la macchina poi partì e quando ritornò a casa ci raccontò tutto il fatto che era successo Noi non ci eravamo accorti di niente E pure quella fu una grande paura che ci è venuta in secondo tempo Ma la paura ce l'aveva mio padre E poi andammo a scappare alle Fioglie, si chiamano le Fioglie Campagna Dopo l'armistizio questo? No no Prima? Prima Che erano gli americani che bombardavano Perché da... come si chiama lì? Da Rossi Passarono i soldati E spararono alcuni colpi di mortaio E andarono a finire proprio da quelle parti là Quindi dovremmo scappare ancora e andare in un altro posto E lì pure ci fu una storia Che cercavano Cercavano da mangiare Cercavano e si fermarono alla casetta della campagna dove stavamo sfollati E mio padre faceva A ogni soldato che passava Dava da mangiare Dava il pane Il prosciutto All'epoca ce l'avevamo Lo nascondevano Lo nascondevano sempre sotto Sotto i sermenti Sotto le cose E passarono anche lì I soldati E strillavano Questi di San Vito Che erano i... Allora erano i... I soldati di San Vito D'Italia insomma Che si erano... Offerti come... I soldati Per... Per salvare le persone E insomma Ci fu veramente Un... Un grosso spavento Perché questi di San Vito chiamavano Guido, Guido Vieni fuori Che mi stanno a prendere I tedeschi E... Le ragazze le avevano nascoste Perché avevano paura Di essere... Violentate Normalmente questi tedeschi Ma questo perché quindi Per... Alcuni italiani Stavano a cercare Di far uscire altri italiani Da nascondiglie Diciamo Eh... Per farli catturare i tedeschi Perché sennò i tedeschi Se la prendevano con loro I sanvidesi Eh... Che erano scappati Ok... Però poi i tedeschi Si erano... Eh... Presi due o tre De San Vito E... Come ostaggio Dico E... Quindi... Insomma Però pure noi In campagna Non ci mancava niente Perché... Mia madre E mio padre E... Gli altri parenti Che stavamo tutti insieme Ci avevamo sempre Nascoste le cose C'era mia nonna anziana C'era avuto 80 anni Stava sopra una scatola Una scatola Di... 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 Di latta E c'erano dei soldi E gli dicevano Mio padre Non ti muovere Ma eh... Non ti muovere C'avevano quelle conne larghe larghe Che non si vedeva niente Sotto quello che c'era Però... Insomma L'abbiamo avuto Pure di spaventi Poi ci fu Il bombardamento Qua a San Vito Che... Io me lo ricordo benissimo Me lo ricordo E... Che da... Da... Dall'alto Del campanile D... Di San Biagio Eh... Prima di San Biagio E c'erano due o tre macchine ferme lì Le mitragliarono tutte Ma sempre i tedeschi o gli americani questo? Quelli gli americani? Contro i tedeschi? Sì E poi... Fu bombardato pure una... Eh... Un'officina di... 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 Come si chiama no? Eh... Falegname Dove... Lì morì uno Poi alla villa... Alla villa... Di Scogliosi E... Lì pure mitragliarono E uccisero... Tanti di... Cavalli E quelli di San Biagio Le prendevano tutti sti... Cavalli Pezzi di cavalli Li portavano In un... Un... Posto dove scorreva l'acqua Per farla... E poi mangiassi O se li mangiassi Vabbè dai Vediamo così Se basta Se no ne facciamo un'altra Dai